La cosa però, le dico sinceramente, che a me fa impazzire, che per farsi sgambetti a vicenda, per dire non referendum, cioè è sulla pelle degli italiani, delle imprese italiane che si sta giocando. Cioè noi non possiamo pensare... Cioè quella roba lì serve, mi chiede a me. Ma guardi, noi siamo stati estremi contestatori rispetto alle aperture fatte sia da Letta che da Renzi, perché nel Giapassa ha fatto anche un ulteriore ampliamento anche a Renzi, sui vouchers, sì. Abbiamo fatto l'attracciabilità. Abbiamo parlato di un martiro. Portato a 7.000 euro a Renzi. Esatto, dai. Ha stato l'ampliamento. Detto questo, sono molto convinto che uno strumento servisse, perché con questo giochetto è la CGL contro il PD, è il PD contro l'articolo 1, è l'articolo 1 contro il PD, chi ci hanno rimesso? Le piccole imprese, le famiglie e i lavoratori. Devo dire che dal mio osservatorio, l'ho ragione a Federica, perché abbiamo fatto tante interviste a tanti piccoli, cioè piccole imprese, il mondo agricolo, che ci dicono che per noi è un dramma. E devo dire che a me fa ribrezzo vedere che la politica utilizza per crearsi il proprio spazio all'interno della sinistra, un po' più meno a sinistra, un po' più al centro, però che si utilizzino questi strumenti sulla pelle delle imprese e lavoratori. Posso solo dire una cosa, noi voteremo comunque rispetto alla manovrina contro, convintamente contro, per molte questioni, tra cui una che, se mi permette, 30 secondi la dico, voglio che i cittadini italiani sappiano che il governo introduce una norma per dare soldi pubblici, circa 15 milioni, ma non hanno scritto con cerdezza, l'ha scritto libero, e ringrazio anche il direttore Vittorio Ferti di averlo fatto, uno delle poche testate che l'ha fatto, per mettere in sicurezza le strutture... Sta leggendo da libero? Sì, no, no, sta leggendo l'emendamento. L'emendamento. Interventi di tipo strutturale minati ad escurare idonee condizioni logistiche e di superare criticità igienico-sanitarie, 15 milioni di soldi pubblici, derivante dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri. Cioè verranno utilizzati 15 milioni di euro per occupazioni abusive fatte solo da stranieri. Se fanno una tendopo, se lo fanno i soldi... No, solo se è straniero, se è italiano no. No, ma non è questo. Se lo occupa abusivamente l'italiano no. Sapevo che poi doveva arrivare... Perché questo ne stiamo parlando. La tirata a Xenobo. Loro dicono no, ma in realtà è perché per chi usa i lavoratori del caporalato in Calabria è ancora peggio, perché invece di combattere il caporalato mettiamo in sicurezza le strutture da dove il caporalato prende i lavoratori. Follia, follia.